Buonasera, buonasera a voi. Allora, ve ne avevo già parlato, manifestazione in piazza del Duomo, sabato 25 marzo alle ore 17. Per dire basta all'invio delle armi da parte del nostro paese e soprattutto che il nostro paese si faccia piuttosto promotore di una trattativa di pace. Ora però nell'organizzare questo evento, come talvolta capita, ci sono le sorprese, ci sono i fatti che ci lasciano perlomeno stupefatti perché sappiamo tutti che manifestare è un qualcosa che è sancito dalla Costituzione, chiunque di noi ha il diritto di manifestare nei modi corretti le proprie idee. Per quanto riguarda le manifestazioni ovviamente bisogna chiedere non un'autorizzazione perché l'autorizzazione non può mai essere negata, ma chiaramente il luogo, no? Perché il luogo invece ad esempio potrebbe o essere già occupato o per ragioni di ordine pubblico particolare o per quanto riguarda il paesaggio, le opere d'arte che sono vicine e che quindi sono in pericolo potrebbero non concederti il luogo che tu richiedi, ma in ogni caso dovrebbero poi metterti a disposizione un altro luogo, un'altra possibilità. Insomma, nessuno può negare ad un individuo di manifestare liberamente. Nel caso della manifestazione che stiamo programmando in Piazza del Duomo a Milano ci è stato chiesto per l'occupazione del suolo pubblico e guardate che l'occupazione del suolo pubblico in questo caso vuol dire un palco di 5 metri per 3, quindi veramente limitato tra l'altro ai bordi, diciamo, del perimetro della Piazza del Duomo ci hanno chiesto una cifra che è molto vicino, adesso deve essere ancora definita, a 10.000 euro avete capito bene come cauzione. Ora, è evidente che questa cifra verrà poi restituita però voi capite che questo è un fatto inaccettabile. Inaccettabile perché se manifestare è un diritto e io credo nel momento in cui tu fai una manifestazione e raccogli anche certi numeri cioè non è che puoi metterti con un megafono in mezzo alla piazza o con un microfono cioè un minimo di palco, ripeto, non è quei palchi che avete presente quando fanno le manifestazioni la Lega, Fratelli d'Italia lunghi 40 metri, quei megatir, no? Che posso anche capire che in quel caso il comune può chiedere una cauzione perché possono esserci dei danni con questi camion che arrivano in Piazza del Duomo ma un palchetto di 5x3 voi capite che insomma veramente è incredibile quello che ci è stato chiesto e tra l'altro ho saputo da organizzatori in giro per l'Italia che in tantissime città italiane questo non viene richiesto come ad esempio a Padova in altre città per mettere giù un palco non viene chiesta alcuna cauzione ecco io vi dico intanto che noi lo faremo ugualmente perché faremo questo sforzo ma semplicemente quello che così è inaccettabile ripeto che vengono discriminati dai cittadini perché non tutti sono in grado magari di tirare fuori mille, duemila, cinquemila euro anche se fosse solo per una settimana perché ci può essere qualcuno che fisicamente questi soldi non li ha e quindi cosa? Non ha diritto di manifestare o deve manifestare in maniera insomma da non poter essere ad esempio ascoltato in una piazza come Piazza del Duomo ecco a me personalmente è sembrato un qualcosa che mi lascia perplesso perché la ragione è quella di tutelare una piazza come Piazza del Duomo nel caso in cui ci fossero dei vandalismi ma io credo che insomma se qualcuno arreca dei danni che ne so io anche al Duomo si mette a imbrattare il Duomo beh ne risponde il responsabile no? cioè non è che può risponderne chi ha organizzato l'avvenimento, la manifestazione stessa questo è una cosa che a me è sembrata e sembra davvero un po' strana volevo così sapere voi eventualmente cosa ne pensate perché ripeto non mi trovo per nulla d'accordo questo però ripeto in conclusione non vuol dire che non ci sarà la manifestazione ci sarà e come perché noi chiaramente non ci facciamo sottomettere da questo e per fortuna mettendosi insieme a un po' di amici riusciamo a far fronte a questa spesa e metterci questa cauzione oltre alle altre spese perché voglio dire noleggiare un palco, l'impianto audio e così via ha sempre dei costi con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani grazie a tutti